tre casse e tre file 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 no pissa di merda anche noi siamo guardati tre casse e tre file non ti fanno il giro allora se lei fa il giro lei se ne sta dietro mi spiace ci sono tre casse e tre file tre casse e tre file non è che non si urla alla gente che non conosce così a caso sono qua alle 10 non è che la gente viene qua e fa il giro così